E cominciamo anche il nostro tempo di avvento come sempre con padre Ernesto della Corte. Bentrovato padre Ernesto, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana perché siamo sempre nel ciclo della Pasqua settimanale. E sì, è vero, è vero. Infatti sia l'Avvento che la Quaresima, quindi la Pasqua, sono occasioni per restituirci alle verità più profonde e belle della nostra umanità. In compagnia quest'oggi di Isaia. Sì, abbiamo Isaia, da Sion uscirà la parola del Signore, ma diciamo brevemente alle nostre amiche e ai nostri amici. L'anno liturgico è uno, ed è Cristo. E lo ripetiamo sempre, è meglio ripetere come dicevano i latini, ripetite a Juvent, ci aiuta in ripetere. L'asse verticale di questa scala a chiocciola è Cristo. E poi noi dovremmo girare intorno, progressivamente, quest'anno iniziamo il ciclo A. Quindi l'anno liturgico è uno, i cicli sono tre, A, B e C. Nel ciclo A che inizia proprio con questa domenica, noi leggiamo il grande evangelista Matteo, patrono della mia diocesi qui di Salerno. E lo leggiamo nella speranza che rispetto a tre anni fa, questo asse che sale, questa scala a chiocciola che sale, sia sempre più in alto. Cioè noi siamo in cammino verso colui che è oer comenos il veniente. Quello che Luca ci ha detto la settimana scorsa, colui che viene, perché sta già avvenendo. Quindi dobbiamo stare attenti ad accorgerci che il nostro cammino, lo dice anche Matteo, è verso il compimento della storia. Per cui abbiamo lasciato Luca con i Vangeli escatologici e quella bella pagina di Cristo reso la croce di domenica scorsa. E iniziamo di nuovo con Matteo al capitolo 24, dove c'è Vegliate per l'arrivo del Cristo. E giustamente Isaia, come facevi notare tu, parla che da Sion, da Gerusalemme, uscirà la parola del Signore. A Gerusalemme effettivamente ci sarà il mistero pasquale del Cristo. Lui che sta per venire nella gloria, la famosa parusia, il ritorno finale, con tutta la potenza e la gloria di Dio. E Gesù in questo frattempo ci mette in guardia dagli altri avventi, dei falsi Messia, usurpatori, avvertendoci che ci saranno delle varie prove sia all'interno della comunità che all'esterno. La vita di fede è fatta di prove e di lotte. In particolare c'è la persecuzione, ma anche il raffreddamento dell'amore scambievole. E allora Gesù ci invita, ci incoraggia alla perseveranza, al discernimento. È chiaro che il fine della storia umana non dipende dalle variabili cosmiche, né dalle persecuzioni, ma dalla conclusione dell'evangelizzazione di tutte le nazioni. Ecco perché quando i discepoli gli chiedono ma quando ritornerà il figlio dell'uomo, Gesù non risponde. Invece ci dà un'altra motivazione, come prepararsi per questo suo ritorno. Sarebbe angosciante sapere quando sarà questo momento. Vivremo in funzione di quel momento. Ci sarebbe un'ansia terribile che ci divore il cuore. In realtà non sapendolo, ogni giorno, ogni istante, ogni momento, è un dono. Per cui è importante, dice Gesù, come prepararsi a questo suo ritorno. E fa un bellissimo paragone. Sarà come nei giorni di Noè, dice al capitolo 24 di Matteo, versetto 37. Prima del famoso cataclisma, cataclisma in greco significa proprio il diruvio, equiparando quel tempo al nostro. Quando lui arriverà, dobbiamo stare attenti che non capiti come nei giorni di Noè. Perché Gesù vuole farci capire non tanto l'immoralità della gente che viveva al tempo di Noè, quanto vuole metterci di fronte dei dati molto importanti, che sono anche nostri. La distrazione, la non curanza, la superficialità. Mangiavano, bevevano e non si accorsero di nulla. Quanto è forte quel versetto 39 del capitolo 24. Non si accorsero di nulla. Facevano la vita di ogni giorno. Mangiano, bevano, prendono moglie, prendono marito. Ma c'è una rilassatezza, una monotonia scontata degli uomini di ieri e di oggi che ci lascia inquieti perché l'evento del compimento sta maturando e noi siamo assorbiti dalla disattenzione più totale, che coinciderà poi con l'annegamento. Ecco perché Gesù dice, state attenti, un dato è certo. Io sto per tornare, io sto già venendo, io sono in cammino verso di voi. Non rilassatevi, siate uomini sentinella. Ecco il Gregorain, il vigilare, il tenere gli occhi aperti. E quando fa vedere quella scena doppia, uomini e donne, due uomini, due donne, rispettivamente nei loro campi di lavoro, gli uomini nel campo e le donne alla macina. E si ripropone lo stesso caso. Uno sarà preso e l'altro salvato. Una sarà presa e l'altra sarà salvata. Uno solo entrerà dei due nel regno. Quasi a voler dire, stati attenti, non sappiamo quali dei due noi saremo. Dipende anche da come ci prepariamo. La pazienza di Dio, che Matteo ha descritto, e lo vedremo lungo questo ciclo, il grano buono con la zizzania, al capitolo 13, o la rete, i pesci buoni e i pesci cattivi, inevitabilmente noi arriveremo a quel compimento. Ma come ci arriviamo? Ecco allora l'imperativo. Vegliate, state svegli, abbiate gli occhi aperti. Questo alzarsi in piedi, che è tipico della risurrezione. Quindi state svegli, direi quasi in agguato, in una costante presenza di spirito, che ci fa spia e desiderio del futuro di Dio. Perché questa attenzione, non noia, non l'ansia, ma l'attenzione, spazza via la stanchezza, la noia, i diversivi. Ecco perché Gesù ci dà anche questa piccola parabola del ladro scassinatore. Noi non sappiamo a che ora viene. Se lo sapessimo ci faremmo trovare svegli. Questa ora è insospettata, imprevedibile, è segreta. Allora, che cos'è la vigilanza? Questa grande virtù che i monaci usavano. Infatti i monaci spesso si chiamavano Gregorio, come il grande papa. Cioè l'uomo che vigila, l'uomo che sta sveglio. La vigilanza non è solo quella di non lasciarsi sorprendere da un Dio che può sbucare all'improvviso. Ma la vigilanza indica anche, direbbe Papa Francesco, il discernimento. Cioè scorgerlo nella storia. Il seme porta frutto. Da quel piccolo seme nascerà un grande albero. Ecco allora che Gesù ci invita a restare svegli. A condurre una vita sempre cercando la sua volontà. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra ci ha insegnato. Essendo responsabili delle scelte compiute. Questo è davvero importante, cari amiche e cari amici. La responsabilità delle scelte. L'ora della sua venuta è il momento in cui non dovremo rendere conto. Lo sa soltanto lui quando sarà. Ma non deve generare paura. Ecco, sgombriamo il campo dalla paura, dalle tensioni. Piuttosto ci deve essere una consapevolezza che noi non siamo mai padroni della nostra vita. Noi dipendiamo da Dio. Per cui non dobbiamo lasciarci sorprendere. Ecco perché Gesù alla fine dà un imperativo in 24-44. Il testo italiano dice siate pronti. In realtà il testo greco dice «Ghineste et toi moi». Diventate pronti. Che indica un dinamismo, una preparazione, un cammino da fare. Per cui ci vuole sollecitudine, disponibilità, risolutezza. Dobbiamo affrettare il regno. Esattamente con questa vigilanza. Lo diceva anche San Basilio. Il Basilio di Cesarea nelle grandi regole morale. Qual è la caratteristica, lo specifico dell'essere cristiano? È vigilare ogni giorno, ogni ora, sapendo che nell'ora in cui non pensiamo il Signore viene. Ecco perché Gesù ci esorta a vivere nella gioia, nell'attesa più bella, ogni attimo come fosse il primo e il compimento. In modo che quando lui arriva noi entreremo alle nozze. Per cui vegliate, diventate pronti. Non ci sorprende questo momento, ma quel momento sarà un momento di grazia se non ci troverà vigilanti. Cioè con gli occhi aperti, gli occhi del cuore, gli occhi della mente, gli occhi dell'accoglienza. Stiamo per aspettare la sua venuta. È questo che ci costituisce nel modo più vero l'essere cristiano nel mondo. Ed è quella distrazione da cui deriva pure la superficialità, un vizio supremo della nostra epoca, come diceva un famoso teologo e sacerdote spagnolo. Sì, hai ragione. Cioè proprio la superficialità, il non accorgersi. È bello questo atteggiamento di Gesù che dice pensate ai giorni di Noè. C'è sempre stata corruzione, peccato, intolleranza, ma la distrazione. Cioè la gente vive guardandosi la punta delle scarpe, non si accorge di quello che sta avvenendo. È un po' come noi. Sta cambiando il sistema climatico. Abbiamo inquinato i mari, i fiumi. Arrivano piogge terribili quando noi non ce l'aspettavamo. Eppure facciamo finta che sia tutto uguale. L'uomo non sa fare discernimento. E' il grande monito che Papa Francesco da tanto tempo ci sta mettendo davanti. Discernere. Discernere è un aspetto della vigilanza. Significa saper leggere i segni dei tempi, diceva il grande Papa Giovanni XXIII. Beato l'uomo che sa cogliere dove c'è il fallo, dove c'è da metterci mano e ripara. E' come in una casa. Io stamattina ho avuto un guastro e ho dovuto vedere dove era il guastro. Saputo dove è il guastro, si mette mano, si ripara. La vita è una riparazione continua. Ecco perché abbiamo bisogno di lui. Lui ripara, salva, restituisce all'integrità ogni nostra azione e tutti gli attimi della nostra vita. Benissimo. Abbiamo cominciato questo nuovo anno liturgico. Per questo ti facciamo i nostri migliori auguri. Così come li facciamo ai nostri telespettatori che fedelissimi ci seguono in conversazioni bibliche. Noi davvero facciamo pure noi gli auguri perché l'avvento è innanzitutto preparazione alla seconda venuta. Non facciamo gli ingenui pensando che sia solo preparazione al Natale. Il Natale è avvenuto una sola volta, poi deve avvenire dentro la nostra vita. Quindi prepariamoci, stiamo svegli perché Gesù sta per tornare. E poi ripeteremo nella seconda parte dell'avvento, certamente riconsidereremo il grande mistero dell'incarnazione che tanto incantava il nostro San Francesco d'Assisi che creò il primo presepe a Grecia. Ma di questo parleremo ancora. La prossima volta, un Dio che ha sempre da nascere e noi non ci faremo trovare distratti. Grazie padre Ernesto per oggi. Molto bene, grazie a voi, buon avvento e buona Pasqua della settimana. E buon nuovo anno liturgico. Buon nuovo anno liturgico, certo. Shalom. 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 Shalom.